Buongiorno a tutti, innanzitutto ricordo i saluti del direttore dell'agenzia delle mani, l'ingegnere Roberto Leggi, che è l'invitato principale per motivi a impegni già programmati non è riuscito a intervenire, ma ci ha tenuto anche la presenza di l'agenzia delle mani. Io partirei dall'incipit di questa norma che è un po' al centro dell'incontro di oggi, l'articolo per chi sei lo sto a chiedere, devo dire un'incipit che mi ha sempre un po' impressionato, perché è detta così, in considerazione dell'eccezionalità della situazione economica e finanziaria del Paese. Ora, è strano trovare parole di questo tipo in un dettato normativo, ma in realtà se contestualizziamo se contestualizziamo un po' questa norma, ci troviamo praticamente in un periodo storico del nostro Paese, dove non si navigava proprio l'oro sostanzialmente, e dove in qualche misura anche l'immobiliare era chiamata a fare lo solato per quanto riguarda il rilegamento del tecnico politico sostanzialmente. E in questo periodo devo dire che, come spesso accade anche nella storia, anche su altri temi, dalla crisi nascono anche delle buone opportunità, o tanto meno dei due approcci delle nuove politiche. Che cosa intendo? Intendo che proprio in quegli anni, parlo dell'esperienza anche professionale e personale, ho visto un cambio di rotta sostanzialmente, un approccio molto diverso al tema dell'immobiliare. Può perché da un lato si riconosceva che poteva effettivamente contribuire all'arrivenimento dell'immobiliare pubblico, ma di certo non risolvere, ma poi interropporti di numero anche per quanto riguarda il dimensionamento del patrimonio immobiliare pubblico. Ma poi più che altro per un approccio, una percezione diversa da quello che è in realtà un vero e proprio investimento pubblico. E mi sembra di poter dire che a partire da quegli anni si condivide la consapevolezza che c'è un tema che proprio accomuna tutti i soggetti proprietari del patrimonio pubblico, che non è più vulnerabile in abbandonarlo, sopportare solo forse di mantenimento, ma che diventa necessario in qualche modo di rieutilizzarlo e nel rieutilizzarlo l'opportunità che non è più l'unico oltre valente. E in questi anni c'è un proliferare anche di strumenti normativi e di nuovi soggetti che sono chiamati a intervenire su queste tematiche. C'è la Costituzione di una SGR di Stato che è chiamata a intervenire nella gestione di fondi immobiliari a cui apporteremo i pubblici, la Cassa dei Posti di Presti è chiamata a intervenire come soggetto intermediario tra la proprietà pubblica, gli investitori privati acquisendo i dipensi da parte dello Stato e poi anche dei negativi dati per poi rispettare come gli investitori privati e anche la stessa tensione del demanio per certi versi a cambia novelle, nel senso che se prima ci si occupava solo del immobili del Stato, oggi il mandato che ci viene dato è anche quello di favorire un più generico sviluppo di immobiliare pubblico e quindi negli ultimi anni è sempre più diffusa la pratica di, anche in maniera proattiva, di andare al tavolo dei dipendenti pubblici, a ricordare dei tempi necessitariati per fare un discorso comune sulla valorizzazione delle diverse immobili. Ora, l'articolo 26, quindi anche il common office, si inquadra secondo me in questo contesto e costituisce uno degli strumenti che possono essere messi in campo per arrivare a questo obiettivo. In realtà ho pensato molto all'intervento iniziale fatto da un segretario per quarantino perché ha subito posto il tema sul fatto che oggi, soprattutto quando parliamo di grandi compendi immobiliari, la regola urbanistica di per sé, oltre che l'attenzione degli investitori locali, impone a chi è chiamato a sviluppare questi compendi di dedicare una brutta parte dell'evoluzione proprio non solo all'edilizia di sinistra pubblica ma anche al social housing variamente denominato, quindi alla possibilità di vendere o affittare immobili a prezzi regolamentali sostanzialmente. L'articolo 26 è uno di questi strumenti a disposizione e il tratto forte che io rimangono in questa norma sta proprio nella possibilità attribuita ai comuni di farsi parte attiva nell'individuare immobili, per esempio sul territorio che possono essere destinati a termine e in tal senso stimolare una riflessione per quanto riguarda il loro utilizzo da parte dell'agenzia del tema o, per il tramite di essa, da parte delle amministrazioni che tecnicamente oggi utilizzano quel tema e in particolare ovviamente tutti quanti noi pensiamo soprattutto agli grandi compendi del processo dell'amministrazione dell'intesa che oggi sono presenti sul territorio e che spesso appaiono utilizzati o non utilizzati, qualche volta lo sono e vengono anche dismessi, altre volte sono un'alloggi di servizio che comunque vanno in ogni caso rispettate sostanzialmente. Apro una parentesi, anche da parte del Ministero della Dipresa, in questo periodo c'è stato un cambio di rotta, il Ministero della Dipresa ha costituito una tasse forse per lo sviluppo immobiliare, ha messo a disposizione tanti importanti mobili per le operazioni di vendita straordinarie, che comunque anche per le operazioni di valorizzazione che ancora oggi facciamo, e anche nell'ambito dell'articolo 26 ha dismesso grandi compendi mobiliari per mettere la disposizione della procedurità degli enti locali. ora, io non mi annoio una tutta statistica dell'applicazione di questo strumento che può essere più o meno efficace, vorrei riempatizzare il tema che c'erano prima, sul fatto che questa norma, ma anche altre, che oggi promuovono un atteggiamento che viene convirtuoso, cioè quello di parlarsi. Spesso le cose si fermano davanti alle carte, davanti alla burocrazia. il cambio di atteggiamento che facevo riferimento prima inverte questa rossa. Sì da parte dell'Agenzia di Vanna, di altri enti centrati, e anche da parte dell'amministrazione corale, io percepisco un cambiamento di atteggiamento. Oggi i problemi si risolvono sedendo nello stesso tavolo, mettendo sul piatto della bilancia tutte le esigenze e poi trovare più strumenti, più adatti per seguire quell'obiettivo, sostanzialmente. Prima si citava la consistenza del patrimonio di coppia dello Stato, se volete faccio un breve riflessio su questo argomento. Innanzitutto precisando che, per quanto riguarda il patrimonio immobiliare pubblico, in realtà solo un 20% è di proprietà dello Stato. Circa un 80% è di proprietà di altri soggetti pubblici, in particolare gli enti territoriati, regioni, provincia e comuni. Per quanto riguarda invece il patrimonio dello Stato, adesso vi cito anche delle tecniche che sono molto tecnici per quanto riguarda la natura giuridica, ma per essere molto semplici, in realtà il patrimonio disponibile, cioè quello che non è soggetto a piccoli di sorta che può essere immediatamente riutilizzato, è in realtà una piccola parte, ed è una piccola parte che è anche caratterizzata da una, come dire, che è costituita, testualmente da 16.263 tra fabbricati e terreni, per un punto qua non è di 2 miliardi e passa. Se leggiamo insieme questi due elementi, ci rendiamo conto che si tratta di un patrimonio immobiliare disponibile molto caratterizzato e quindi anche di scarsa importanza in termini di consistenza e di valore. Più importante effettivamente può essere quello del patrimonio, invece derivante dalle dismissioni della difesa che oggi sono l'unica, come dire, fonte di incremento di provvigionamento di solenza del patrimonio immobiliare e che sono riutilizzate e funzionalizzate. Ripeto, rispetto a questo tema, l'amministratore dell'Italia sta facendo ancora grandi sforzi di razionalizzazione della loro presenza sul territorio e di continuo mettono a disposizione immobili per il lavoro di funzionalizzazione. Vorrei fare un ultimo scena e poi magari intervengo su specifiche domande. Quando parlavo sempre del nuovo approccio all'immobiliare pubblico, mi fa piacere citare alcune cose che non attengono direttamente all'ascomento di trattazione, ma che danno il senso della rossa che si inverte. Progetto Fagli, Progetto Cammini, OUS del Ministero dei Veni Culturali, sono tutti progetti che tendono a, che interessano i mobili di piccole dimensioni, qualche volta anche in un certo pregio storico artistico, in altri casi no, ma sono tutte norme che, come dire, che al ritorno economico, appunto, appuntano al riutilizzo di contenitori fuori sostanzialmente, favorendo tra l'altro anche l'intervento di giovani, di start-up, del terzo settore. Questa sembra una cosa banale. In realtà non era così fino a pochi anni fa. Fino a pochi anni fa la logica era quella del massimo sfruttamento economico degli immobili. Oggi c'è una maggiore consapevolezza che, anche in considerazione delle scasse risorse del pubblico, questi contenitori devono essere riutilizzati e le forze di investimento nel territorio, nella cittadinanza e nel terzo settore. Grazie.